Benvenuti a TgPro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona. Nel 2008 sono stati ben 14 comuni della provincia ad aver superato la percentuale del 45% nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dalla normativa nazionale e quanto emerge dal rapporto annuale stirato dalla provincia di Ancona per monitorare lo stato di attuazione del piano provinciale per la gestione dei rifiuti. Figurano tra le amministrazioni più virtuose Barbara, Belvedere Ostrenze, Camerano, Castellione di Suasa, Corinaldo, Monzano, Monterado, Morro d'Alba, Ostra, Ostravetere, Ripe, San Marcello, Senigallia e Serra dei Conti. I dati 2008 sul processo di raccolta differenziata nella provincia di Ancona mostrano dei trend di miglioramento importante. Diminuiscono i rifiuti portati in discarica, aumentano i rifiuti recuperati e inviati a riciclo, diminuisce, e questo è il dato più eclatante, la produzione pro capite di rifiuti. Prevediamo per il 2009 momenti ancor più importanti di risultato che vedranno partecipare alla raccolta differenziata porta a porta l'85% della popolazione della provincia di Ancona e quasi l'80% dei comuni. Realizzare azioni formative per soggetti in casa integrazione straordinaria e lavoratori in mobilità è quanto prevede il protocollo di intesa firmato nei giorni scorsi dalla provincia di Ancona con le organizzazioni sindacali e le associazioni dattoriali che costituirà il presupposto di un bando per circa 25 progetti formativi che interesseranno oltre 400 lavoratori con un impegno di spesa pari a 350 mila Euro. Il protocollo che abbiamo oggi sottoscritto credo che sia un intervento importante in un momento molto delicato per l'occupazione e per il sistema manifatturiero marchigiano. È chiaro che la formazione diventa un elemento determinante per la trasformazione anche del nostro modello produttivo e credo che una corretta valutazione delle capacità professionali dei lavoratori porti indubbiamente a valorizzare una formazione più puntuale e più completa per rispondere alle esigenze di quello che sarà il riassetto del sistema economico produttivo. Il protocollo che oggi abbiamo siglato di intesa con l'amministrazione provinciale e con le organizzazioni sindacali è sicuramente da noi apprezzato perché si aggiunge a un percorso avviato dall'amministrazione provinciale già da qualche mese per far fronte a una situazione di difficoltà del sistema di impresa della nostra provincia. I punti interrogativi sono ancora tanti, qualche segnale di ripresa lo percepiamo nel sistema delle imprese che Confindustria Ancona rappresenta, sono segnali però non stabili e non nascondiamo qualche preoccupazione rispetto alle tensioni finanziarie del sistema. Anna Salvucci, 57 anni, docente di scuola primaria e la nuova presidente della commissione pari opportunità della provincia di Ancona. Numerose esperienze in campo politico e sociale alle spalle, tra le quali quella di assessore all'urbanistica dal 2002 al 2006 a Castelfidardo, la Salvucci è stata eletta all'unanimità nel corso dell'ultima seduta del nuovo organismo insediato sia metà luglio. Nel corso della stessa riunione è stata eletta anche la vicepresidente Roberta Foghini, 25 anni di Ancona, laureanda in giurisprudenza. Sicuramente un argomento che ci è sembrato particolarmente importante comunque da trattare è il discorso della violenza e in modo particolare anche la possibilità poi lavorative per le donne in modo tale che possono avere un'autonomia economica che consenta loro e soprattutto chi è che ha magari dei figli di poter poi riprendere una propria vita, riappropriarsi della propria vita. Uno dei problemi su cui vorrei che si focalizzasse il lavoro della Commissione Pari Opportunità è sicuramente il problema della conciliazione tra lavoro salariato e lavoro domiciliare che è un problema che viene sentito dalla maggior parte delle donne e in particolare delle giovani donne che si affacciano al mondo lavorativo con la speranza non solo di farsi una posizione appunto nel lavoro ma anche di costruirsi poi una famiglia. Questa era l'ultima notizia nel ricordarvi che le edizioni del Tg Pro saranno sospese durante il mese di agosto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settembre, buona navigazione. Alla prossima notizia. Alla prossima notizia.